La votazione è chiusa. Presenti 403, votanti 400, astenuti 3, maggioranza 201, favore di 137, contraria 263. La Camera respinge. Siamo al 16.10. Paolo Nicolò Romano. Intendete bene, prego. Grazie, Presidente. Con questi due emendamenti, il 16.10 e il 16.11, chiedo che si obblighi gli operatori a prevedere l'opt-in come standard per l'attivazione dei servizi. Per opt-in intendo l'attivazione che può avvenire soltanto se il cliente abbia preventivamente manifestato il consenso all'attivazione. Questo consentirebbe di eliminare il problema delle attivazioni non richieste di molti servizi. Grazie. Grazie, Eleonore Villarosa. A titolo personale. Anche per questo, visto il parere favorevole dei relatori del Governo, vorremmo capire la motivazione, visto che, come ha spiegato il collega, si parla di servizi che nessuno ha richiesto e che ci vengono appioppati, come si suol dire, a nostra insaputa. Spesso e volentieri, con il mio ultimo contratto Vodafone, ho trovato un addebito fisso di 5 euro per dei servizi mai richiesti. Presidente, ho telefonato, mi hanno cancellato l'attivazione del servizio, ma ho pagato per quei mesi i famosi 5 euro, perdo la scheda, chiedo il duplicato della scheda, cosa mi ritrovo di nuovo i 5 euro per i mesi successivi. Quindi, se voi volete continuare a far sì che le aziende possano accreditarci, addebitarci dei costi che non abbiamo richiesto, bocciate questo emendamento, perché questo state facendo. Grazie. Grazie. Prende la parola all'Iuzzi. Semplicemente, Eleonore Villarosa, siccome lei ha detto il parere, il Governo ha dato parere favorevole, il Governo ha dato parere... Perfetto. Onore di Uzi, prego. Grazie, Presidente. Vede, noi stiamo spiegando questi emendamenti che fanno parte di un pacchetto a tutela del consumatore. Molto spesso sono proprio le compagnie telefoniche che fanno, tra virgolette, queste truffe all'insaputa del consumatore. E stiamo anche raccontando le nostre esperienze, ma credo che qui in quest'Aula tutti abbiamo avuto un'esperienza di questo genere, ovvero di un servizio non richiesto, che l'operatore ci appiope in modo assolutamente arbitrario e che noi poi dobbiamo pagare e seguire una lungaggine di chiamate al call center, chiamate a servizio di informazione, eccetera.